Buonasera a tutte, tutti e tutto. Questa sera siamo in compagnia di Annalisa Marinelli che ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito. Con noi c'è Angela Gerardi per Aretterier Vantaggio Donna che è appunto l'associazione con la quale abbiamo costruito questo appuntamento transfeminista perché il tema è molto importante, lo sentiamo come un tema urgente da attraversare insieme. Voglio ringraziare le tante persone che anche stasera sono con noi. Parleremo della democrazia, della cura, della cura come paradigma. Avremo anche un modo di fare, come sempre lo sapete, domande, esprimere opinioni o anche semplicemente curiosità su questo argomento attraverso la chat perché ormai chi frequenta i nostri appuntamenti sa che vi chiediamo di silenziare i microfoni per poter favorire meglio l'ascolto del laboratorio però appunto stiamo registrando e quindi oltre a silenziare il microfono se non volete apparire vi consigliamo di silenziare anche, di oscurare anche la telecamera perché in questo momento altrimenti siete visibili. Detto questo, quello che voglio dirvi sulla rete in realtà lo sapete già la rete donne trasferministe è questo spazio che organizza all'interno di Arcigay gli appuntamenti trasferministi a cui state partecipando ormai da moltissimo tempo e speriamo vi siano utili e per noi sono un momento di confronto preziosissimo. Passo subito la parola ad Angela che so che introdurrà la nostra ospite che di nuovo veramente per noi è un regalo so che è a Stoccolma e quindi per noi è veramente una grande opportunità averla con noi ecco. Grazie. Grazie Natascia. Buonasera a tutte, tutti, tuttù. è la prima volta che conduco un seminario così online quindi sono, beh, prima di tutto mi fa molto piacere di essere qui per questo tema e qui con Annalisa Marinelli perché il tema della cura per Atelier Vantaggio Dona è sempre stato un tema centrale che ha guidato in qualche modo la nostra progettualità e poter oggi stasera condividere con voi diciamo le cose che anche da Annalisa Marinelli abbiamo imparato ci fa molto piacere. Diciamo che il tema della cura per quanto riguarda Atelier fa parte di questo nostro impegno volto a favorire un'assunzione pubblica della responsabilità della cura e quindi, e su questo Annalisa ci darà dei contributi interessanti. Allora, magari passo a presentare Annalisa e poi se non ho detto tutto lei aggiungerà delle cose. Per chi si è appena collegato Annalisa, infatti, è qui con noi collegata dalla Svezia quindi da Stoccolma dove vive da sei anni giusto? Sì, sì. Cosa fa Annalisa per vivere? Fa l'architetta e dice di sé che fare l'architetta gli permette di aprirsi a tanti mondi a tanti interessi e soprattutto lo fa perché è appassionata di tutto ciò che ha a che fare con l'abitare il mondo e dice di sé anche che è una ricercatrice un'attivista politica una mamma e una pasticcera a tempo perso giusto? Sempre meno. Annalisa scrive e quando scrive lei riflette sulle cose le decostruisce e le reinventa e io devo dire che questo è quello che le dice di sé sulla scrittura io che la leggo sento la stessa cosa che lei crea diciamo col suo modo di scrivere di scomporre le cose e poi di rimetterle insieme lei crea in me sempre uno spostamento allora scrivendo lei cosa ha pubblicato? Ha pubblicato due libri uno che è Etica della cura e progetto nel 2002 dove ha proprio messo le mani in pasta su questo tema nel definirlo per Atelier è stato un libro importantissimo e poi ha pubblicato nel 2015 La città della cura che è stato il libro che ha prodotto poi quando è ritornata a Stoccolma abitando dentro quella città mi pare no? no ho finito di scriverlo e l'ho consegnato all'editore prima di partire per Stoccolma ah ok perché quando sei venuta a presentarlo è rivenuta da Stoccolma perché poi è venuto un anno perché venisse pubblicato quindi è stato pubblicato nel 2015 però io ho finito di scriverlo a giugno del 2014 e poi a luglio sono partita per Stoccolma ok della città della cura lei dice che è un diario politico e io aggiungerei che è proprio un partire da sé per prendere politica prendere parola politica sulla cura perché c'è tanto di cosa nel libro che lei ha scritta io non so se vuoi aggiungere qualcosa prima che passiamo diciamo al nostro colloquio sulla democrazia della cura ma per rimanere nel dato autobiografico ci tengo a dire che appunto ho finito di scriverlo nel 2014 che vuol dire che sono passati sei anni abbondanti e ovviamente in questi sei anni c'è stato uno spostamento anche rispetto a una serie di cose quindi per me è stato adesso prepararmi a questo incontro è stato anche ritornare un passo indietro e fare una verifica su su un un vivere a Stoccolma che adesso ha ovviamente un'intensità molto più forte perché ci vivo da donna che abita qui che lavora che ha a che fare con la burocrazia che ha a che fare con le scuole che ha a che fare in maniera molto più da cittadina non ancora svedese però insomma che vive quotidianamente qui e quindi insomma c'è stato uno spostamento quindi è interessante perché io stessa sono un po' sono più instabile cioè avrò avrò più più puntini di sospensione forse stasera però sarà interessante anche per me quindi grazie innanzitutto voglio dire che vi ringrazio tantissimo per questo appuntamento perché appunto mi offre questa occasione e poi perché rivedo un po' di faccia amiche che mi mancate tantissimo ok allora che facciamo andiamo un po' sul pezzo sì sì allora il titolo di questo di questo incontro è la democrazia della cura e se ci fate caso democrazia ci catapulta diciamo dentro una dimensione pubblica mentre la parola cura ci porta invece in una sfera del privato dove diciamo uomini e donne hanno ruoli diversi rispetto a questo a questa pratica a questo a questo fare che ci dici di questa di questa divaricazione che c'è fra queste due parole nello stesso titolo che mette subito sul piatto il guasto originario e cioè la pretesa di estromettere dalla dimensione pubblica e politica un dato di partenza ineliminabile che è quello della necessità di prendersi cura della vulnerabilità siamo esseri viventi dunque mortali quindi abbiamo bisogno di cura e il fatto di aver estromesso questa questo presupposto alla vita dalla della sfera pubblica ovviamente è come io dico sempre come giocare con con un mazzo di carte truccato quindi mettere insieme la parola democrazia la parola cura è un atto rivoluzionario perché finalmente rimette insieme due pezzi che non possono stare separati in realtà è stata un'illusione un'illusione che poi come vedremo nello svilupparsi del lavoro ha avuto bisogno di sacrifici umani per essere portati avanti ascolta soffermiamoci sulla parola cura poi arriveremo anche alla democrazia sì ce la ce puoi definire cosa intendi per cura qual è lo spazio che occupa quali sono le attore e gli attrici che sono coinvolti così ci mettiamo anche d'accordo su questa parola prima di procedere sì beh allora se si apre il vocabolario alla parola cura si trovano colonne di definizione perché la parola cura soprattutto in italiano raccoglie insieme tantissimi significati ma si può tracciare un riassunto del riassunto del riassunto di tutti dicendo che la cura è ciò che si occupa di strutture instabili che si stanno trasformando si occupa di accompagnare qualcosa che è vulnerabile che ha bisogno di attenzione e che questa attenzione non è un'attenzione qualsiasi ma è un'attenzione competente è un'attenzione esperta cioè che vuol dire che fa esperienza della pratica e impara facendo ed è un'attenzione che coinvolge sia la mente accesa e vigile ma anche la sfera emotiva quindi è una qualità dell'agire particolare quindi fare le cose con cura significa non soltanto farle con zelo diligenza intelligenza esperienza ma significa anche avere un coinvolgimento emotivo in quello che si sta facendo quindi è una forma di attività molto particolare nella pratica quotidiana è ciò che ci rimetti al mondo tutti i giorni cioè è quello che consente ai corpi alle relazioni all'ambiente che abbiamo intorno a noi di rigenerarsi per poter continuare a fare quello che viene definito produttivo questo ok e vabbè l'hai messo proprio al centro del mondo e l'hai posto come come dire una questione strategica è una questione strategica e quando si parla di cura si fa riferimento si può fare riferimento a qualcosa che è remunerato perché si possono comprare servizi di cura ma anche a qualcosa che non ha nulla a che vedere con il il riconoscimento economico questo non è una roba da poco solleva un po' il tema della 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 gratuità della cura nonostante sia economicamente molto rilevante esatto esatto e c'è questo questa confusione di due piani tra la gratuità e l'assenza di valore economico ma che sono due cose completamente diverse la cura dicono le economiste è un tipo di attività che siccome è così ineliminabile perché ha a che fare con il nostro con il nostro essere vulnerabili è quantitativamente prevalente sul pianeta cioè è il tipo di attività che maggiormente è presente nel numero di ore nelle attività umane ma le economiste ci tengono a sottolineare che è anche quel tipo di attività che è presupposto dell'attività cosiddetta produttiva cioè senza il lavoro di cura che rigenera rimette al mondo e non ci sarebbe la possibilità di essere produttivi diciamo questo banalmente se facciamo riferimento alle nostre vite quotidiane cioè se non ci prendiamo cura di noi non mangiamo non ci teniamo in un ambiente che ci accolga che ci rigenere eccetera eccetera non siamo nelle condizioni di poter fare il lavoro cosiddetto produttivo quindi sembra banale eppure eppure i bilanci economici non la contemplano quindi questa questa gratuità viene scambiata con assenza di valore economico eppure abbiamo nella nostra esperienza quotidiana ormai sempre di più abbiamo a che fare con attività che sono gratuite ma le quali sappiamo riconoscere un altissimo valore economico prendo un esempio banale per tutti quello dei social media i social media sono gratuiti e accessibili a tutti ma hanno ma sono un'industria economica potentissima probabilmente una delle più forti che c'è in questo momento e praticamente comprano le nostre emozioni comprano le nostre opinioni gestiscono economicamente ciò che è gratuito ciò che non ha non è monetizzabile però per la cura questa cosa non riusciamo ad applicarla perché nella nostra educazione siamo stati abituati a non vederla a non vederla a darla per scontata è un tipo di attività alla quale il pensiero non si dedica quindi quel primo libro che tu citavi che era etica della cura e progetto lo sforzo che io ho fatto lì è stato proprio quello di dare un nome a queste competenze cioè di analizzarle di dargli un nome di vedere di trattarle come una qualsiasi tecnica una tecnica cioè esisteva questo mondo di competenze gestite nel quotidiano in casa in famiglia che non eravamo abituati a dire quando ho cominciato io 22 anni fa a fare ricerca su questo tema ci mettevo un po' a spiegare alle persone di cosa mi stessi occupando perché non era così consueto parlare di cura lavoro di cura non erano termini che facevano parte del vocabolario comune e quindi era complicato allora se nominavo la cura mi chiedevano se stessi facendo qualcosa sugli ospedali perché era l'unica cura di cui si aveva il collegamento cerebrale con le cose note quindi lo sforzo è stato innanzitutto quello di cominciare a nominare a creare una grammatica della cura una sua sintassi come fatta come opera e dopodiché da quella cercare di aprire spalancare le porte di casa e portarla fuori dalle case perché possa essere anche risorsa per altro per il governo delle cose del mondo non soltanto il governo delle cose di casa il rigoverno il rigoverno come dicevi esatto senti ma cosa ti ha portato occuparti della cura ci ci fai un po' di storico su questo sì allora ero correvano gli anni non me lo ricordo più il 96 credo quando ho cominciato a frequentare il laboratorio scientifico del Politecnico di Milano che si chiamava Gruppo Banda che era questo gruppo di docenti ricercatrici studentesse che si occupavano delle teorie delle opere delle donne in architettura e quell'anno loro stavano mettendo su un seminario sul tema della cura contemporaneamente nel mio privato io avevo cominciato a frequentare Stoccolma e diciamo non lo so se queste due cose insieme hanno cercato hanno creato un cortocircuito nella mia testa fatto sta che io ho cominciato ma era poco più che un'intuizione davvero molto nebulosa ho cominciato a dire ma tutta questa appunto tutte queste cose che si fanno e che portano avanti la vita quotidiana no? cavolo avranno un valore dal punto di vista delle competenze cioè si gioca di tutto dentro casa dalla cucina all'infermeria alla pedagogia di tutto all'economia cioè sono tantissime le competenze che sono coinvolte all'interno della cura e hanno però una struttura e una modalità che sono interessanti da indagare però davvero era veramente una nebulosa se non avessi avuto i da fare e la sua fiducia nel dire segui questa intuizione vai scava continua probabilmente avrei abbandonato perché era veramente una roba che io stessa dicevo ma dove andrò a parare e invece lei ci ha creduto tantissimo e questa cosa mi ha dato la forza di appunto di costruire questa questa sintassi e poi c'è stata Stoccolma Stoccolma mi ha dato un altro piano perché appunto da un lato era la necessità di dare un nome e una struttura sintattica a questo mondo dall'altro la città di Stoccolma invece mi dava la dimensione di come il parametro della cura portato nella dimensione pubblica dello spazio pubblico generasse generasse un'improvviso un'improvvisa dilatazione delle possibilità di partecipazione politica nella società e quindi l'accesso l'accessibilità a moltissimi corpi che normalmente rimangono fuori dal discorso politico e allora dai bambini agli anziani alle persone che hanno difficoltà motorie o sensoriali ai caregivers che si fanno le persone che si prendono cura di tutte queste persone nominate subiscono i stessi tipi di limitazioni delle persone che vengono tagliate fuori tipicamente le donne perché sulle donne comunque grava statisticamente il carico di cura in maniera maggioritaria e quindi una grossissima fetta della popolazione non ha accesso alla vita pubblica e collettiva non può contribuire eccetera eccetera quindi questi due livelli che sono appunto il ragionare sulla cura e sulle sue competenze su come queste trasformano l'idea di governo delle cose e dall'altro lato invece partendo proprio dalla cura e dalla vulnerabilità come unità di misura per la costruzione dello spazio pubblico sono questi due piani che io ho continuato a portare avanti in parallelo e che sono definiti in maniera abbastanza specifica in questo ultimo libro che tu hai citato che è La città della cura Ascolta qui ci stiamo avvicinando come dire a mettere insieme democrazia e cura ok però ci possiamo soffermare un attimino su questa questione la cura è legata alla retorica del materno al femminile al dono e quando invece sono diciamo se si accosta la parola cura al maschile agli uomini una gentile concessione no una cosa che fanno ma che non gli appartiene no è la minima cosa che fanno è che sei bravo come? ogni minima cosa che fa un uomo dentro casa quanto sei bravo Dio quanto è bravo ecco ecco situazioni allora qui la cosa è un po' un tantino più evoluta non ci sono tutti questi smancerie miracolamenti nei confronti di un uomo che si occupi di cura è più normalizzato però credo che la cosa derivi dal fatto che hanno una storia più antica intanto di approccio alla questione ma soprattutto più pragmatica mi spiego tutto nasce si può dire che tutto nasce da lì però forse ha delle radici ancora più lontane legate alla loro cultura però vabbè diciamo che la struttura della società per come noi abbiamo imparato a conoscere la società svedese nasce come impostazione nel secondo dopoguerra quando c'era una fortissima crisi economica quasi la metà della popolazione svedese era immigrata facevano veramente la fame e una consulenza veramente illuminante affidata a due sociologi moglie e marito a coniugi Midral fece sì che si intuì questo principio e cioè bisognava assolutamente liberare il potenziale produttivo delle donne per poter fare questo bisognava affrontare il tema della doppia presenza delle donne come titolari della cura e come forza produttrice quindi era necessario che lo Stato che la mano pubblica si facesse carico di risolvere i problemi della cura questa è stata l'impostazione insieme socialista e femminista che ha costruito la Svezia per come la conosciamo e che poi è proseguita negli anni con governi che conosciamo meglio come quello di Alof Palme però insomma è una lunga tradizione che si basa appunto su un principio molto pragmatico dobbiamo risolvere un problema economico e c'è una questione cioè che le donne hanno un doppio ruolo bisogna alleggerire le spalle delle donne da questo doppio ruolo per poter liberare il loro potenziale economico quindi questa consapevolezza molto molto pratica è insita nella nella loro consapevolezza individuale e collettiva e quindi è più difficile tornare indietro non è una questione di principio cioè è proprio una questione banalmente pratica come è tipico del loro approccio in generale e quindi su questo pezzo devo dire sono ovviamente più avanti rispetto al piano delle pari opportunità e delle la situazione non è perfetta neanche qui cioè comunque ci sono spazi di miglioramento nel senso che anche qui ci si lamenta che gli uomini prendano meno congedo parentale di quanto potrebbero però è ovvio che insomma rispetto all'Italia la situazione è di molto di molto più avanzata diciamo ascolta dal tuo osservatorio che è anche quello appunto dell'architetta no non non solo della mamma che vive la città e attraversa la città dal tuo osservatorio di architetta ci 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 dici qualcosa su questa città della cura cioè di questa città che è costruita in maniera funzionale rispetto ai bisogni delle persone che la abitano piuttosto che non una città che erge monumenti fallocentrici che poi diciamo non è non è ospitale per i bisogni diciamo della collettività e di chi ci abita ecco appunto lo spazio pubblico è è lo strumento di welfare più potente che abbiamo a disposizione questo è interessante lo spazio pubblico della città e questa è una cosa che mi mi fecero non mi ricordo più neanche però mi ricordo che questo discorso veniva applicato per esempio al al ruolo centrale che ha il il porto il porto antico a Genova c'è questo spazio aperto a tutti con i giochi dei bambini dove si vanno a riunire tutte le famiglie anche delle famiglie che hanno meno opportunità economica per andare a fare altro in altri contenitori che sono adibiti i contenitori di solito abbiamo noi in Italia adibiti alla cura cioè per il divertimento dei bambini per la cura degli anziani per sono tutti contenitori 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 ma il tessuto connettivo poi rimane ostile invece avere spazi pubblici cioè avere la parte aperta della città che è accessibile che offre cura che offre uno spazio per la cura per la convivenza collettiva è uno strumento di welfare potentissimo e qui in Svezia la misura dei corpi diversi più fragili dai bambini dai bambini a cominciare dal passo dei bambini dalle loro esigenze per arrivare fino agli anziani che qui vanno in giro con i deambulatori prendono i mezzi pubblici vanno in giro per la città è ovvio che per poter arrivare a fare questo significa che tu hai abbattuto seriamente tutte le barriere architettoniche dalla soglia del portone anzi dalla soglia dell'appartamento fino a musei tutti gli ospedali tutte le strutture della città tu puoi andare in giro dotato di rotelle di qualsiasi genere dal passeggino alla sedia a rotelle al deambulatore a questi maledetti monopattini elettrici qualsiasi cosa sia dotato di rotelle non ha limitazioni di nessun tipo questa cosa questa cosa significa significa appunto allargare spazi di partecipazione democratici non so se ho risposto alla tua domanda in maniera esaustiva sì 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 cioè uscire praticamente dalla logica dello standard dell'uomo vitruviano no e e invece farlo esplodere in un credoscopio di mini standard cioè che non sono mini per niente perché poi in realtà se facciamo un conto di proporzione la popolazione la minima parte della popolazione è quella dell'uomo vitruviano no bianco in forma capace di stare sulle sue gambe e possibilmente con un'automobile ancora meglio perché questo è lo standard che costruisce le nostre città la maggior parte delle nostre città in Italia che poi è anche paradossale perché sono città storiche che non sarebbero neanche adatte all'uomo automobilista non sono nate con quella logica quindi sono anche snaturanti rispetto al tessuto di relazioni che ha messo su la città storica italiana europea ma io penso soprattutto quella italiana dei borghi italiani quindi è anche uno snaturamento della nostra cultura e della nostra socialità quel tipo di standard ma l'esplosione dello standard sembra diciamo ci dà la possibilità di operare una distruzione del paradigma patriarcale sì perché poi lo standard sarebbe il finto neutro maschile preso a misura di tutto invece la cura ci insegna che i corpi sono tutti diversi e che l'azione va personalizzata questo ci insegna la competenza della cura la cura si occupa si occupa si prende cura in maniera personalizzata dei corpi e quindi insegna che tu ti devi avvicinare alla vulnerabilità con con curiosità con curiosità e conoscendola e quindi la misura deve diventare la vulnerabilità che poi è un è un tipo di passaggio che non è necessario soltanto la democrazia direi che è indispensabile per il pianeta cioè il senso del limite e la vulnerabilità cioè se non prendiamo questo come parametro diciamo che siamo già in ritardo sul fatto che l'avremmo già dovuto prendere da un po' ecco come ci dice Greta la svedenza sì come ci dice Greta ascolta diciamo che la cura è ancora fortemente sessualizzata e abbiamo visto anche in un laboratorio come Rimois che è anche razzializzata nel senso che è eternamente in capo alle donne con dei carichi differenziati ma diciamo passa come una catena di responsabilità da donna a donna donne del nord del sud bianche neri dell'est dell'ovest lo vediamo anche con le lavoratrici della cura dette così chiamate badanti il femminismo cerca in qualche modo di smascherare queste linee di oppressione ma secondo te noi siamo ancora diciamo all'alba della denuncia o siamo già dentro al cambiamento ma io voglio essere ottimista e dire che siamo dentro al cambiamento la questione è questa è che ecco in questi 22 anni come dicevo siamo partiti dal non sapere neanche di cosa stessimo parlando quando nominavamo la cura a invece un moltiplicarsi io vedo che insomma il tema della cura ormai è sdoganato il fatto che ci sia una competenza che se ne parli cioè mi sembra di vederlo molto spesso questa cosa mi dà un sacco di gioia ogni volta ogni volta che lo incontro però bisogna anche essere consapevoli del fatto che è una componente questa della cura è una componente importante ma di una struttura simbolica che ha delle radici molto profonde che è il simbolico patriarcale e che informa tutto della nostra realtà persino la forma delle nostre abitazioni cioè noi abitiamo in questo modo ma le nostre abitazioni sono figlie della struttura della famiglia patriarcale se uno pensa alle società matrineare dei mosu loro hanno la casa è costruita in una maniera totalmente diversa quindi siamo dentro il cambiamento però per decostruire questa roba qui ci vorrà ancora tantissimo la metafora che uso io di solito è che i femminismi hanno cominciato a dipingere le sbarre della gabbia di un altro colore in modo che siano visibili perché prima erano no si mimetizzavano erano dello stesso del cielo noi anche le vedevi invece adesso i femminismi hanno colorato la gabbia quindi si vede ma da qui a prendere le chiavi e riuscire a uscirne fuori c'è ancora un bel pezzo di strada da fare e questo ve lo dico dalla Svezia ve lo dico dalla Svezia ci vuole ancora parecchia strada senti visto che hai toccato siamo arrivati ai femminismi no il tema della cura diciamo dentro l'elaborazione femminista suscita diverse reazioni tu che hai girato anche l'Italia hai incontrato i tanti femminismi parlando anche del tuo lavoro questa cosa l'hai registrata mi ricordo anche in qualche occasione essere stata presente a questo diciamo degli scriccioli su questo tema quindi questa è una domanda che ti faccio dici qualcosa di questo e poi anche diciamo di quella che è la tua elaborazione sul tema della cura a partire da te perché il partire da te è stato un contributo importante al tuo lavoro quindi mi piacerebbe anche tu ci dicessi qualcosa su questo allora io ricordo ancora il primo battesimo la prima presentazione in assoluto che feci in vita mia del primo libro che uscì l'etica della cura e progetto fu alla casa delle donne a Roma e insomma l'accoglienza fu parecchio aggressiva nel senso che sollevai un terrore sacro cioè la reazione fu di spavento di scetticismo ovviamente erano persone che erano presenti e sentivano una presentazione e non avevano letto il libro quindi al solo nominare la cura erano venute i capelli dritti a tutte perché ovviamente andavo a toccare andavo a toccare lo spettro dal quale tutte stavano cercando di liberarsi con fatica che è quello del collegamento quasi destinale no proprio destinale che era tra le donne e il lavoro di cura quindi questa cosa che io volessi edulcorare non lo so insomma questo fatto che io volessi dare una dignità a questo spettro metteva agitazione metteva in agitazione parecchie poi appunto nel corso degli anni le cose per fortuna sono cambiate e si è capito che che lì può essere il nostro punto di forza uno dei nostri punti di forza qualcosa che abbiamo da insegnare al mondo sicuramente perché siamo state noi depositarie di questa sapienza ce la siamo trasmessa con una modalità che non lo so se dovuto al fatto che l'abbiamo gestito sempre noi e quindi è una modalità femminile o se addirittura il femminile è qualcosa che si è costruito a partire dalla competenza della cura cioè se questo avere a che fare sempre con i corpi e con la vulnerabilità ha fatto di noi degli esseri diversi che hanno una sensibilità differente quindi non so quale delle due cose è vera mi dici mi dici la mia la mia esperienza la mia esperienza se tu ti riferisci a quello che io ho vissuto come dal punto di vista della cura fin tanto che sono stata in Italia cioè fino a sei anni fa fino ai 44 anni io ho vissuto in questa maniera dissociata tra con le ricerche di tipo di stampo femminista e però nel mio privato la vita come una moglie degli anni 50 perché io sono stata una moglie a casa disoccupata con due figli da crescere dico sempre che quello che sono le condizioni che il nostro paese molto spesso offre a una donna che faccio il mio caso in particolare che è sposata le viene il desiderio di avere dei figli che vive lontana dalla propria cerchia familiare quindi che non ha le strutture di supporto delle nonne le zie eccetera eccetera e che appunto non le viene consentito di tenere insieme due pezzi dell'esistenza come agli uomini invece viene dato cioè la paternità e il lavoro produttivo a me questa cosa non è stata concessa e allora io quello che dico sempre è che cosa mi ha salvato dagli psicofarmaci mi ha salvato il femminismo cioè la capacità di dare una lettura politica a quello che stavo vivendo e quindi la mia ricerca scientifica che veniva fuori appunto dal laboratorio Wanda con la mia tesi di laurea all'interno che parlava della cura ha fatto sì che i miei figli siano diventati il mio laboratorio vivente e quindi i viaggi la maternità vissuta a Stoccolma perché comunque Stoccolma è stato un posto dove sono sempre venuta diciamo in questi vent'anni anche per brevi periodi però il primo anno di vita di mia figlia l'ho passato qui quindi insomma ho avuto la possibilità di misurare tutta una serie di parametri il parametro del passeggino il parametro appunto della vulnerabilità della differenza dei corpi misurarla sia a Stoccolma che in Italia per me tutto questo grazie allo sguardo che il femminismo mi ha insegnato cioè la lettura politica delle cose che andavo vivendo sono riuscita a trasformarlo in una ricerca in una ricerca che appunto sono questi libri che ho scritto quindi questo dopodiché niente dopodiché sono venuta qui e qui perché perché quei libri comunque non erano un lavoro nel senso che io non ho avuto mai l'autonomia economica dai libri non si ricava purtroppo però venendo qua invece quello che ho conquistato è quello di essere diventata finalmente una donna adulta capace di badare a se stessa anche sul piano economico e questa cosa adesso alla fine quasi fine di questo anno terribile che è stato il 2020 terribile su tutti i piani nel mio caso anche sul piano personale mi ha dato anche la possibilità di costruire una capacità di resilienza fortissima senza la quale io se fosse successo perché la vita ogni tanto offre un po' di ribaltamenti totali di catastrofi allora se queste stesse catastrofi fossero successe quando io ero in Italia nelle condizioni che l'Italia mi offriva io sarei cioè avrei sarei rimasta schiacciata sotto le macerie di quello che è successo qui invece questo non avviene anche questa è cura voglio dire significa che una società dà la possibilità a un individuo di potersi salvare indipendentemente dalle condizioni che la vita gli mette di fronte e questa è una componente pubblica della cura cioè quando tu hai la possibilità di di essere autonomo di essere supportato ogni volta che sei nelle difficoltà perché c'è tutta una società che è costruita in modo tale da farsi carico di questi problemi eh insomma quindi non è poco noi siamo entrate nella nella democrazia della cura esatto della democrazia della cura fa parte anche la questione di educare la mascolinità alla cura eh questo è un tema molto attuale che dici? beh sì attuale è indispensabile direi è proprio indispensabile io anche qui posso fare un riferimento alla mia pratica personale perché io ho una figlia femmina e un figlio maschio alla figlia femmina direi che non c'è neanche bisogno anzi piuttosto bisogna difenderla no? perché c'è tutto l'ambiente che le dice che si deve fare carico della cura quindi non c'è bisogno di spingere più di tanto sul maschio invece adotto questo tipo di argomenti gli dico devi imparare a prenderti cura di te perché da questo passano due cose fondamentali della vita che sono la libertà e l'amore quello che gli dico è vuoi vivere relazioni libere in cui in cui tu sei libero di scegliere di entrare in relazione e di vivere un amore libero dal bisogno dalla condizione del bisogno e allo stesso tempo avere come dire la conferma che l'altro stia con te per libera scelta allora se vuoi vivere questa dimensione fondamentale dell'esistenza devi imparare a prenderti cura di te non devi avere dipendenze da questo punto di vista tu devi essere autonomo capace di badare a te stesso e dopodiché scegli liberamente e dopodiché hai la possibilità non esiste l'amore senza la libertà non si può amare se non da creature libere e quindi io utilizzo questi argomenti non utilizzo gli argomenti della solidarietà che bisogna no perché mi sembra che siano anche abbiano poco appeal ma perché io penso davvero che sia così cioè penso che che sia alla fine l'obiettivo finale sia esattamente quello cioè pulire pulire le relazioni da 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 ogni tipo di di compromesso che che possa passare attraverso di interdipendenze pelose perché la cura è uno strumento di potere anche sugli altri quindi quindi è bene avercela avercela autonomamente essere titolari delle proprie cure mi sembra che abbiamo ricomposto il nostro titolo e ci ha illustrato un po' quello che è il dono che ci può fare la democrazia della cura e proprio in collegamento con quello che hai detto a partire dalla tua esperienza personale io vorrei dedicare gli ultimi minuti diciamo di questa conversazione poi vediamo un po' quali sono le domande al romanzo che che hai scritto e che vorrebbe venire al mondo e che ha molto a che vedere con tutto quello che che ci hai detto ma forse ti sei spostata diciamo su su un piano più personale anche questo spostamento questo spostamento ha a che fare con quello spostamento che dicevo che c'è stato in questi sei anni no dall'uscita del libro sulla città della cura all'esperienza diretta che poi ho di questa città della cura come l'ho definita di Stoccolma perché perché questo anche questi argomenti che utilizzo con mio figlio no cioè questa questione del rapporto tra la cura il bisogno le relazioni e l'amore è stato tutto un percorso che io ho fatto proprio vivendo a contatto con questa società della cura questa città della cura perché vivendo qui mi si sono aperte anche tutta una serie di contraddizioni domande perché mi sono detta gli svedesi non sono particolarmente bravi nella costruzione delle relazioni e mi sono chiesta perché sono la società nella quale c'è il maggior numero di persone in percentuale che vive e che muore da sola allora mi sono chiesta in che relazione sta il bisogno con la competenza di costruire relazioni cioè se arrivassimo se arrivassimo utopicamente a una società che si fa carico totalmente dei bisogni primari individuali delle persone siccome entrare in relazione comporta sempre un rischio comporta una fatica comporta un esporsi un aprirsi un aprire la propria vulnerabilità e offrirla dall'altro che ci può anche che ci può dare conferme e disconferme ferendoci a volte a morte chi è più disposto a correre questo rischio se azzeriamo completamente il bisogno di entrare in relazione allora ho cominciato a farvi questo genere di domande no perché la relazione non è un bisogno è una competenza che si costruisce sulla base dei bisogni quindi che succede quando i bisogni diventano un affare collettivo cioè che cosa cambia come si spostano i pesi e in che posizione si ritrova l'amore allora mi è venuta voglia di parlare di tutte queste cose però a questo punto il linguaggio del saggio non si prestava più perché per parlare d'amore ci vogliono parole d'amore e quindi scusate che mi suona una sveglia ecco questa non l'avevo prevista per parlare d'amore ci vogliono parole d'amore e quindi il linguaggio della saggistica non si prestava più bene e mi sono spostata sulla letteratura e sul romanzo e questo romanzo parla d'amore parla d'amore però appunto con con una struttura che risente ancora molto della mia esperienza di saggista perché è una struttura abbastanza ibrida nella quale ci sono moltissime di queste riflessioni inserite dentro e quindi parla molto della società parla di come di come la società pretende di normare l'amore addirittura nell'illusione di utilizzarlo come motore per la produttività e insomma ci sono una serie di ingredienti dentro e io mi auguro che avremo un'occasione in futuro anche per parlare del romanzo quando uscirà si intitola Autopsia di una felicità mancata Autopsia di una felicità mancata verrà pubblicato da Jacobelli Editore e dovrebbe uscire a gennaio con il nuovo anno ok io ti ringrazio intanto per aver messo così a fila le parole la parola cura democrazia anche sul finale la parola amore non so se ci sono domande dalla chat se qualcuno vuole Natascia hai guardato ci sono un po' sì sì ho tenuto d'occhio la chat ci sono ovviamente un sacco di complimenti e considerazioni positive su quello che hai detto insomma quindi Maurizio scrive in una società come la nostra è molto difficile parlare di cura non è pronta l'opposto di cura è gelida solitudine sono riflessioni che fa Maurizio sempre Daniela scrive meraviglioso questo ultimo appunto sulla libertà riferimento che facevi prima lo riprende anche Ambra mi piace molto questo appunto tra cura di sé e libertà e poi Alma scrive ogni frase una citazione stasera mi chiedevo se fosse possibile espandere sul libertamento della cura il paradosso di tante donne originarie dell'est Europa che si privano rinunciano alla cura della propria famiglia questo mi sembra interessante come tema di sé stesse purtroppo spesso per essere operatrici della cura nuove schiave tra parentesi in Europa il cui valore è quasi totalmente invisibile nella nostra società per poi ritornare da regine tra molte diciamo virgolette con un potere economico e sociale molto più ampio nel proprio paese diciamo apriamo questo questo tema se vuoi dopo di che però a quale prezzo io volevo fare una considerazione perché ovviamente hai fatto mi hai sollecitato su un paio di questioni la prima che trovo molto interessante è il rapporto tra democrazia e accessibilità ho trovato molto interessante perché quando penso ai diritti io ne penso ai diritti che sono secondo me come dire anche mi viene da dire il fondamento di una democrazia che si possa dire tale penso che il problema dell'accessibilità legate ai diritti è un problema centrale cioè se i diritti non sono accessibili a tutte tutti e tutto di fatto è anche la democrazia che viene messa in crisi questa è diciamo sostanzialmente la prima riflessione che volevo fare l'altra invece ha a che fare con l'ottica trasfeminista e la prospettiva trasfeminista da cui guardo al tema della cura con cui diciamo provo ad approcciarmi al tema della cura e mi viene da dire che considerata come l'abbiamo un po' considerata finalmente oggi l'abbiamo sviscerata bene stasera è una responsabilità collettiva che però dal mio punto di vista si declina anche in alcune forme di come dire di autogestione passatemi il termine nel senso che è una dimensione intanto che io considero veramente trasgenere cioè che va oltre proprio il corpo biologico in cui si nasce o anche il genere di elezione è proprio una prospettiva che c'è una dimensione che proprio travalica questo perché sfida diciamo l'idea del ruolo e anche della divisione di genere ma poi in questo diciamo provo a diciamo attraversare la prospettiva trasfemminista mette un po' anche in discussione il paradigma della cura così come lo immagino l'idea che esista come dire una sempre un ente esterno che in qualche modo controlla i corpi che gestisce la cura non so come dire cioè io ho un'idea spero di spiegarmi in questo se penso che ne so alle pratiche di cura dei femminismi che in qualche modo hanno affrontato il tema dell'aborto attraverso appunto la scelta di fare aborti clandestini di socializzare quell'esperienza eccetera eccetera se penso alle lotte che hanno fatto gli attivisti si erano coinvolti contro contro l'HIV proprio per riuscire a sottrarre a una logica di controllo medico anche dei corpi se penso alle lotte attuali che facciamo noi per la depatologizzazione della condizione trans intersex eccetera penso un po' anche a questa idea di cura che sottostà a tutta questa scelta non so se mi sono spiegata per cui la cura diventa qualcosa che passa necessariamente dall'autoformazione che passa necessariamente dalla dal prendersi cura collettivamente cioè non so come dall'autodeterminazione a tutta una serie di altre condizioni e su questo lo sapete tu se avevi fatto una una riflessione perché io mi mettere al centro la cura dei miei come dire interessi anche cioè la leggo in questa chiave qua e dico è una grande opportunità anche per chi utilizzare questo come paradigma voglio dire è anche una grande opportunità per chi fa queste battaglie qua sostanzialmente di depatologizzazione di beh io l'affronto in una maniera forse più generale teorica facendo un'analisi proprio sulla sulla filosofia della cura cioè su cosa la parola cura coinporta poi sai io sono un'architetta quindi è ovvio che ho analizzato più le ricadute sulla questione della costruzione degli spazi pubblici ma anche della gestione del territorio e quindi la cura del territorio il rischio che cosa vuol dire la tutela la differenza tra la tutela e la cura che mi ricorda un po' quello che tu stai dicendo a proposito della della medicalizzazione e invece del concetto di cura ma adesso tutto quello che mi stavi dicendo mi mi faceva no mi portava a un esempio che abbiamo sotto gli occhi tutti cioè questa storia della pandemia anche questo se vogliamo no si può fare una netta distinzione tra l'approccio di cura che è quello di che è quello di consapevolezza della propria vulnerabilità e anche consapevolezza del fatto che sì siamo mortali e ci sono i virus quindi queste cose succedono non è possibile pensare di eliminare il rischio non si eliminano i rischi non si elimina la vulnerabilità non si elimina la mortalità questo è quello che la cultura della cura insegna altro è invece l'ossessione per la terapia l'ossessione per la tutela l'ossessione per il controllo ok che appunto che hanno che si sposano appunto con il concetto di medicalizzazione cioè con una una struttura utopistica della eliminazione della vulnerabilità esatto e quindi diciamo io io vedo questi piani anche se li vedo in maniera teorica no abbastanza stratta però questo concetto diciamo l'ho analizzato a un livello superiore poi ciascuno di noi può prendere le sue applicazioni nel campo che più gli sta a cuore di cui ha maggiormente esperienza e io ovviamente l'ho trasportato nel mio mestiere che è quello dell'architetta però però riconosco questa stessa logica in tutto quello che tu hai citato tornando invece c'è la domanda sulla questione delle badanti e delle delle schiave che vengono a lavorare ecco l'esperienza che raccontavo del percorso che la che la società svedese ha fatto per arrivare a socializzare la cura è esattamente quello di dire dobbiamo liberare le donne perché le donne facciano parte del tessuto produttivo alla pare degli uomini questo passaggio noi non l'abbiamo fatto questo passaggio noi non l'abbiamo fatto quello che 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 abbiamo fatto abbiamo detto semplicemente a poverine le donne che che devono fare la conciliazione non riescono a conciliare e quindi prendiamo altre donne più sfigate così quelle che si sono laureate e che che ne so che hanno possibilità vanno a lavorare e scaricano su altre donne questo problema non abbiamo altro che è fatto uno scaricabarile ma la società non si è fatta carico della cura da noi è rimasta sempre nella dimensione privata non è stata fatta nessuna analisi di questo tipo a livello politico cioè non è stata portata nella polis la cura è rimasta dentro le case e quindi tutta la questione dei babysitteraggi delle badanti eccetera eccetera è una questione privata gestita dai privati questa è la grossa differenza che non ci fa venire fuori da questo buco e che non fa altro che voglio dire come i cerchi nell'acqua quando si butta il sasso non fa altro che allargare i cerchi ad altri paesi più poveri che hanno condizioni di maggiore disagio e quindi no questa ondata di di malessere la esportiamo semplicemente trovo molto molto interessante c'è Maria Angela che vuole fare una domanda se vuole prendere parola anche direttamente a voce può farlo se preferisce non so se si sente perché ha scritto si può intervenire facendo più domande insieme ovviamente sì però forse è meglio farlo a voce perché o altrimenti se vuole scrivere aprire il microfono lo devi aprire tu il tuo microfono sì perché non cioè non ho io la possibilità di aprire il tuo microfono credo se scorri con il mouse sul fondo dello schermo dovrebbe apparire la barra con i comandi esatto c'è una striscia bianca in fondo allo schermo ecco ok mi sentite? sì perfetto sì allora io ho chiesto di parlare perché sono più le domande e descriverle era complicato comunque io sono Mariangela buonasera e complimentoni per questo laboratorio ripartendo da quello che è stato detto all'inizio si parlava di democrazia della cura mettendo insieme due parole che in effetti ci sembrano dicotomiche perché si parlava democrazia come pubblico cura come privato mi sento di aggiungere quindi democrazia pubblica pubblico maschile cura privato femminile perché questa dicotomia si è trasmessa e si è portata avanti quindi riservando storicamente tutto ciò che era pubblico all'appannaggio del maschile mentre tutto ciò che era privato e quindi si occupava di cura all'interno delle case come al femminile da qua mi viene anche la domanda rispetto a quello che ha detto Anna Lisa che ha sollevato un tema molto interessante ovviamente da una lista dove tu ho esprimato tutto bene e mi ha chiesto cioè si è interrogata dicendo che il femminile si è costruito a partire dalla cura e la cura si è costruita a partire dal femminile quindi la prima domanda era possiamo pensare che pensare che la cura in realtà sia uno strumento di costruzione del genere poi seconda domanda sarebbe opportuno fare una differenza tra lavoro di cura e cura propriamente detta perché mentre il prendersi cura di qualcuno fa parte diciamo del del modo di vivere il modo di creare relazioni mentre il lavoro di cura a mio avviso però è un modo con cui praticamente dell'attività svolta in gran parte delle donne viene come dire usato come ammortizzatore sociale nel senso che noi abbiamo un sistema in cui il lavoro di cura è quel lavoro che non è mai pagato cioè non solo non è riconosciuto non è pagato e quando un lavoro non è pagato è sfruttamento e forse bisognerebbe anche mi chiedo come affrontare bene poi questa questione e poi ok no niente soltanto queste due va bene grazie adesso però aiutami a ricapitolare allora la prima questione era ok la cura come strumento di costruzione del genere su questa cosa io non non so se è nato prima l'uovo o la gallina cioè non lo so se se la femminilità è una specie di deformazione professionale oppure se la cura ha le sue caratteristiche perché è stata gestita dalle donne ma poi non è così perché storicamente di cura si occupavano anche di schiavi che erano anche maschi cioè quindi il lavoro di cura non è stato sempre gestito dalle donne credo credo però che la cura influenzi cioè ma è una così è una cosa da sperimentare sul campo però io vedo che i nuovi maschi quelli che sono più attivi nella cura hanno delle cioè maturano delle consapevolezze differenti a partire dall'esperienza della cura è ovvio perché appunto tu hai un contatto diretto con la vulnerabilità e questa cosa ti cambia la prospettiva sul mondo su di te e sul mondo quindi quindi sì penso che la cura sia una fonte di costruzione del sé particolare adesso non so però cioè non mi azzarderei a dire che la femminilità sia il prodotto e la cura cioè mi sembrano temi troppo complessi non non lo direi mai però sicuramente posso dire che la cura è un'esperienza che modifica le prospettive e le consapevolezze di chi la pratica la seconda questione era la differenza tra cura e lavoro di cura io per il tipo di studi che ho fatto secondo me non è bene distinguere questi due piani perché proprio perché per il punto precedente perché attraverso il lavoro di cura cioè attraverso il fatto che tu metti le mani nello sporco metti le mani nella nella parte fragile nella parte mortale nella parte che abbiamo sempre delegato perché ci faceva schifo perché ci ricordava quanto siamo quanto siamo fragili è proprio quella parte lì che costruisce senso e costruisce valore quindi secondo me le due dimensioni sono inscindibili cioè non puoi non puoi pensare che la cura è andare cioè giocare con il bambino e fagli le carezze e però poi non gli prepari da mangiare non sei tu quello cioè anche anche gli animali si affezionano alle persone che si prendono cura di loro nel senso che gli fanno da mangiare che li puliscono che 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 gli tolgono le pulci voglio dire è proprio un fatto di costruzione della relazione che passa attraverso attraverso il potere che si costruisce nel momento in cui io metto la mia vulnerabilità totalmente nelle mani di un'altra persona e questa persona se ne fa carico con amore è lì che si costruisce il senso della cura quindi no io non sono d'accordo a separare le due cose però però sono convinta che tutto quel mondo lì vada supportato e vada valorizzato economicamente valorizzato economicamente come dicevamo all'inizio non significa necessariamente monetarizzare tutto monetizzare tutto ma stasera ce l'ho con la parola monetizzare vabbè comunque non significa quello significa però riconoscere che quella roba lì ha un fortissimo valore nell'economia e quindi metterla a bilancio cioè significa che tu per esempio alle famiglie devi dare risorse in termini di tempo e di soldi per poter gestire la cura per dirne una non è esternalizzare i servizi la soluzione perché poi qual è l'obiettivo di separare cura e lavoro di cura significa che poi tu che fai il lavoro di cura lo esternalizzi e lo rendi economico nel senso che lo dai a qualcuno al quale paghi uno stipendio così che tu poi puoi semplicemente giocare a carte col nonnino ma non è così cioè secondo me no cioè non sono d'accordo che vadano divise le due voci si tengono insieme ma bisogna bisogna trovare un modo per supportarle e per dargli una visibilità politica ed economica leggo ancora qualche osservazione Alma dice io oggi riflettevo su come lo Stato ci spinge a spersonalizzare la cura che offre favorendo la disaffezione a partire dalla scelta dei termini come personale ATA oppure OS sigle che non trasmettono nulla per ruoli che però sono forse una genitorialità sociale Maria P Alessi invece ti dice si può amare solo da persone libere dici libertà dal bisogno prima di tutto quindi indipendenza economica e centratura sulla cura ma anche libertà dalle nostre resistenze nevrosi paure troveremo qualche pista di riflessione nel tuo romanzo su questo spoiler mi auguro di sì i lettori scelti a cui ho affidato il manoscritto per capire se potesse avere un valore mi dicono che la cosa interessante del romanzo è che io non offro soluzioni spiattellate però stimolo molto l'autosoluzione nel senso che stimolo percorsi di autointerrogazione e di analisi quindi insomma non lo so spero che aiuti spero che possa aiutare però però sì questo nodo questo nodo è proprio critico secondo me ed è per me questa cosa del romanzo è frutto di una radicalizzazione del discorso della cura in una maniera veramente estrema cioè arrivare a proprio al nodo quello più doloroso che cos'è che tiene insieme i bisogni e i legami di relazione cioè è una roba a me sembra un temone nel senso che mi ricorda quello che è emesso dal laboratorio di autocoscienza di ieri quando abbiamo detto che per direzioni prenderebbe i nostri desideri se ci affrancassimo e ci smarcassimo dai bisogni cioè che pieghe prenderebbero le nostre relazioni che pieghe non conformi mi viene da te non conformabili prenderebbero le nostre relazioni se non fosse più bisogno a spingere sull'acceleratore di certi processi e mi viene da dire se anche una certa solitudine attribuita anche come dire forzatamente forzosamente anche per esempio ad un età e questa è una forma di ageismo secondo me lo voglio dire proprio per come la penso cioè immaginare che le persone di una certa età hanno un destino di solitudine che necessariamente è un destino di dolore è un po' è un po' diciamo secondo me lo stesso discorso cioè esiste una possibilità di non relazione non so come dire non necessariamente affrancati dal bisogno è possibile che sia anche un desiderio come dire la non relazione e la solitudine insomma e noi secondo me su questo riflettendo sulla cura non come obbligo ma anche come scelta come spazio di libertà in cui sperimenti altro di te non so come dire come occasione anche in questo senso usciamo fuori da questo tipo di retorica Samantha beh però la crisi climatica è talmente cioè voglio dire è proprio protagonista invece il tema della vulnerabilità ce l'abbiamo spiattellata in faccia ce l'abbiamo proprio sulle spalle o ce ne facciamo carico immediatamente o se no siamo fritti cioè siamo proprio fritti non andiamo da nessuna parte altro che pandemia la pandemia è una specie di palestra rispetto a quello che ci aspetta ad affrontare riguardo alla crisi climatica quindi diavolo cioè altro che storia minore è l'argomento protagonista in questo momento e noi dobbiamo battagliare con le unghie e con i denti perché perché tutti e tutte se ne facciano carico perché è proprio il tema centrale voglio tornare un attimo sull'ageismo ma giusto una chicca perché la protagonista del romanzo è una donna di insomma una quarantenne che si innamora di un ragazzo molto più giovane c'è questa storia dell'età e dei confini tra l'età e di come si vivono le relazioni nelle differenti stagioni della vita è uno dei temi centrali del romanzo proprio perché va a mettere secondo me le dita in queste in queste questioni e quindi mi serviva anche come primaldello per per far venire fuori le contraddizioni della nostra società e di come appunto di come vengono normate le relazioni d'amore molto interessante vabbè lo leggeremo questo libro adesso ho venuto una gran curiosità e magari io non vedo l'ora ti iniziamo a presentarlo più avanti tanto magari volentieri permettendo esatto mi sembra di aver letto quasi tutto se la cura fosse inserita nelle attività riconosciute pensate a quanto sarebbe più alto il PIL assolutamente il dato di fatto mi sembra è incontrovertibile non so se mi sono persa qualcosa no direi ah sì forse adesso è arrivata in questo momento le professioniste della cura chiamate badanti sono sfruttate nel nostro paese e nel proprio dalla famiglia di origine che aumenta le proprie richieste l'intervento chirurgico del padre da pagare il matrimonio della figlia la macchina del figlio gli studi del nipote e così si trovano imprigionati o straniere due volte senza patria questa è la riflessione che fa Elga è un dolore enorme un dolore enorme che è generato da una non presa in carico della cura a livello politico continua a essere un rimosso e come tutti i rimossi si butta immondizia sotto al tappeto e poi c'è qualcuno che si ne occupa e questo qualcuno di solito è quello che ha meno opportunità di difendersi che nel gradino più basso della scala sociale purtroppo si tratta di questo la cura ci mette di fronte anche a diciamo come dire al fatto che questa è una società profondamente classista che anche le donne possono incarnare è un privilegio agirlo rispetto ad altre donne è difficile è complessa la questione della cura ci interroga prima di tutto però Natascia è sessista dopo ci sono le altre sono assolutamente d'accordo sono professioniste professionisti della cura anche lei gli educatori educatrici si è vero professionali una professione sempre poco riconosciuta questo è anche molto vero certo sì perché appunto è un concetto che può essere assolutamente esteso ma tutto quello che ha a che fare con la cura ha subito il marchio infamante proprio perché storicamente ma storicamente proprio risalendo ai tempi dei greci cioè questa suddivisione tra lavoro tra opera e lavoro cioè tra l'opera che era quella degna di nota quella appunto che nobilitava l'uomo e il lavoro invece legato ai bisogni del corpo hanno subito questa gerarchizzazione infamante per tutto quello che aveva a che fare appunto con la rigenerazione dei corpi e quindi la cura comunque mi sembrava anche molto interessante un po' quello che che emergeva prima quando parlavamo di valore economico io per valore economico della cura non intendo esclusivamente il valore appunto remunerabile insomma no perché come dicevi tu è questa cosa che mi interessa molto poter diciamo spingere più avanti come riflessione se la cura diventa una questione politica c'è veramente c'è una presa in carico collettiva di questo aspetto della vita di ognuno cioè della vulnerabilità di ognuno e di tutta la collettività nell'insieme forse ci sono altre forme di remunerazione non economiche di chi fa lavoro di cura tra virgolette come dicevi tu una che mi sembra molto interessante è il tempo il tempo il tempo certo beh certo il tempo è una risorsa non da poco si dice che il tempo è denaro non è un caso è una risorsa non riproducibile esatto viene da dire che anche collegare non è una grande vittoria è un po' quando diciamo le donne hanno ottenuto di poter fare i stessi lavori che fanno gli uomini non è una grande vittoria pensare che andiamo a retribuire tutto il lavoro di cura se invece comunque il lavoro di cura non è ridistribuito proprio diversamente cioè il problema diventa sempre quello il paradigma è sempre quello maschile il modello è sempre quello lì tempo tempo in più tempo ridistribuito e spazio perché appunto abbiamo detto lo spazio pubblico deve essere aperto a tutti i corpi e questo significa che tu hai più spazi a disposizione per agire la cura e allora un conto è fare che ne so il genitore o il badante chiuso dentro quattro mura altro è poterlo fare vivendo attivamente all'interno della città dove tu puoi andare in giro con la persona della quale ti stai prendendo cura ed essere accorto in qualsiasi struttura avere la possibilità di andare nei musei avere la possibilità di andare nei teatri avere la possibilità di andare in giro e utilizzare la città anche se hai no un una una ghiandola qualcuno di cui ti stai prendendo cura è che non è autosufficiente che non è no che hai no corpi una città che preveda tutti i corpi che li accolga che abbia delle strutture che abbia servizi che abbia che abbia conoscenza di che cosa sia la vulnerabilità e delle risposte adeguate a questa vulnerabilità questa è l'accessibilità no significa passare dal concetto di di handicap al concetto di ostacolo cioè il problema non è nel corpo il problema è nella mancata risposta dell'ambiente alle esigenze del corpo e questo questo non ha a che fare soltanto con le disabilità ha a che fare anche con le età diverse ha a che fare anche con le culture diverse a volte no con le sensibilità diverse questo quindi lavorare nella direzione di rimuovere gli ostacoli insomma esatto che poi lo dice anche la nostra costituzione assolutamente Alma sì sono d'accordo che non sì leggo solo Alma e poi ti do la parola Alba che mi sembra anche il caso perché Alma dice non escludiamo la scelta nel discorso operatrici cura badanti la scelta ovviamente l'autodeterminazione delle persone che vogliono fare questo lavoro certo non c'è dubbio rischiamo una vittimizzazione anche dove non c'è no ma sono assolutamente questo lo diamo per scontato ovviamente al di là dei percorsi però molto spesso parliamo di chi trova estretta una propria scelta Letizia dice alcuni attivisti definiscono le persone con disabilità persone disabilitate è fantastico proprio per descrivere in relazione al contesto umano architettonico mi sembra molto intelligente questa cosa che ci ricorda Letizia alcuni attivisti definiscono le persone con disabilità persone disabilitate la cui abilità come dire è sottratta dalla società dall'ambiente sono ostacolati esatto esatto ok il più dovrebbe essere completamente rivoluzionato mi sembra molto interessante questo cambio di ospettiva che suggerisce anche un'altra Letizia e anche il tempo a disposizione dovrebbe essere un elemento di ricchezza di un paese Giulia dice una soluzione politica anche a livello locale sono per esempio i tavoli interistituzionali credo di aver capito ci sono altri strumenti di dialogo con la governance per creare una città personalizzata ah io non ne ho idea ci sono altri strumenti di dialogo con la governance per creare una città personalizzata a parte i tavoli interistituzionali io non so non lo so non so gli esperimenti ne sono stati fatti tantissimi a proposito per esempio dello strumento del tempo le donne in Italia si sono inventate la pianificazione degli orari della città però anche quelle cose lì noi siamo produttori di grandi sperimentazioni di grandi intuizioni che poi finiscono nei cassetti non si capisce che fine facciano bilanci di genere pianificatori degli orari banca del tempo banca del tempo tutta questa bella strumentazione scusate attività di entusiasmi che poi finiscono nel niente non riescono a diventare strutturali queste cose boh benissimo Alba guarda mi collego subito a questa considerazione di Annalisa ciao Annalisa ciao Annalisa piacerissimo di vederti finalmente riesco a dirtelo no dico mi collego proprio a questa considerazione perché io credo che tra le tante prospettive te ci hai offerto anche un sano ottimismo al quale in qualche modo mi collego e sul quale mi allineo però io sento anche il bisogno di dire un'altra cosa cioè che è necessario su questo tema sulla grandezza di questo tema anche perché è un tema davvero enorme che segna fortemente le nostre vite aprire un grande conflitto un altrettanto grande conflitto e mettere in conto in questo conflitto l'enorme massa di lavoro gratuito che le donne mettono continuamente a disposizione e che potremmo anche cominciare a nominare appunto aprendo un bel conflitto come forse lo sfruttamento la forma di sfruttamento più radicale e più presente in tutte le società ecco a me la parola conflitto mi piaceva un po' questo punto del nostro incontro inserirlo perché mi dà forza anche nel mantenere quella prospettiva appunto necessariamente ottimista e piena di belle immagini ma non solo immagini che ci hai portato in alcuni momenti te perché poi anche te fai un bel lavoro di critica di tutta questa struttura del lavoro di cura anzi ti devo dire che era tanto che non ci sentivamo soprattutto su questo tema l'ultima volta appunto alla presentazione del tuo libro quindi si parla forse di 4 o 5 anni fa quando facessi di presentazione in Italia e di nuovo esatto sì che passiamo una bella serata qui a Siena e che rifaremo con il tuo nuovo romanzo vero? dobbiamo assolutamente vederti in presenza e presentare questo libro meraviglioso siamo già nella tua cartina no? vero? sì come no certo il problema è che ci sono i luoghi ma non ci sono le date perché siamo più indipendenti da questa diavoleria di virus però non molleremo diciamo così quindi no ecco volevo solo inserire un po' la parola conflitto e ecco per finire quello che stavo dicendo a distanza di qualche anno in cui ci risentiamo su questo tema ti devo dire che di nuovo tu l'hai arricchito di un ulteriore vocabolario e questo è una bella come dire me lo porto proprio a casa che bella grazie rispetto a questa serata perché fa esattamente da contrapunto ma da contraltare direi invece alla grande afasia che c'è che continua ad esserci intorno intorno a questo tema un silenzio no che alla difficoltà che abbiamo quando parliamo di questo tema di trovare anche le parole giuste per farne un racconto racconto no che è importante che prenda ultima cosa molto personale io lo vivo comunque per questo ho forse avuto bisogno stasera di chiamare in causa la parola conflitto perché io ti devo dire la verità analisa io cura il lavoro di cura li vivo dentro una grande dicotomia c'è una parte di me che la sente nel cuore sente nel cuore ma anche nel corpo la fatica di questo lavoro di questo impegno la sua innominabilità io mi trovo perché appunto ho difficoltà probabilmente a fare i conti con la vulnerabilità ma anche poi con la caducità della vita con la malattia quindi con la morte con tutto quello da cui si aprirebbe un filosofeggiare non so se a questo punto è il loro giusto quindi questa è una parte di me il mio cuore la mia mente molto coinvolta dal tuo lavoro da sempre da quando l'ho scoperto però si apre a questa nuova a questa nuova prospettiva quindi alla cura come il valore politico come il nuovo paradigma ma soprattutto come seme per rifondare appunto il rapporto le relazioni le relazioni soprattutto tra il maschile e il femminile no? per rifondarle e qui si ritorna alla questione del rapporto tra cura e democrazia mi fermo qui ecco però ti volevo un po' dire alcune decisioni che avevo fatto io non lo so anche io vivo in maniera conflittuale la cura e ho vissuto in maniera conflittuale la maternità quindi ce l'ho tutte cioè non sono assolutamente una che ha vissuto la cura come un fatto naturale che mi veniva spontaneo proprio per niente tant'è però che appunto piuttosto c'ho scritto dei libri perché non era un fatto naturale questo era assodato e quindi e quindi toccava analizzarlo però però adesso mentre parlavi mi è ritornato in mente un video che ho visto di recente di Paola Borboni che diceva che si sentiva una gran donna si sentiva di avere potere perché poteva lavare i piatti e contemporaneamente entrare in un consesso anche vestita con uno straccio addosso e mettere a posto tutti i presenti semplicemente parlando e distruggendoli questa questo senso di che è la cosa che dicevo prima riguardo quello che dico a mio figlio questo senso di libertà che ti dà il saper il saper prenderti cura di te e dei tuoi bisogni primari è una roba potente è una roba potente cioè sapere che tu non devi avere paura non devi avere paura perché te la sai cavare da sola ecco sai sai rispondere alle tue esigenze alle tue di quelle delle persone che ti sono nelle immediate vicinanze sai farti carico ecco questa roba qui è una roba che rafforza è una roba che dà potere e quindi è faticosa la vorresti delegare volentieri però sapere di saperlo fare fa la differenza da una sicurezza in sé è un potere interiore che che gli uomini molti uomini non hanno tanto da perdere il senno e ammazzare la persona da cui sono dipendenti da questo punto di vista è appunto un depotente cioè è un veramente un'impotenza fortissima per gli uomini questa questa assenza di capacità di essere titolari delle proprie cure quindi insomma è una roba sulla quale dobbiamo riflettere io e te in privato sì 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 lo faremo lo faremo presto beh che dure io vorrei dire una cosa in conclusione perché tempo fa mi sono annotata questa frase su un biglietto non so da dove l'ho presa dove non è mia però è è sempre qui sulla mia scrivania e ce l'ho su questa cartolina e dice la cura libera la democrazia dal patriarcato io credo che questo è davvero il grande regalo che ci può fare diciamo cambiare paradigma e fare diciamo corresponsabilizzarsi e diventare davvero tutti i titolari della cura di cui noi abbiamo bisogno di cui il mondo ha bisogno esatto quindi avanti tutta c'è una rivoluzione da fare e con questa conclusione io dirò qualcosa di banale scontato che mi avete sicuramente sentito dire abbiamo volato altissimo altissimo anche stasera abbiamo volato altissimo anche stasera Annalisa tu pensavi di no e invece ti tocca pure a te davvero voglio ringraziare Atelier Vantaggio Donna nelle persone di Albalita Sampieri e Angela Gerardi per aver caldeggiato fortemente la tua presenza qui io sinceramente non avevo dubbi che questo sarebbe stato un laboratorio molto interessante ma soprattutto molto urgente per noi della rete donne transfeminista e lo vedo dai feedback che ci stanno arrivando adesso c'era proprio bisogno di parlare di cura perché non l'avevamo mai fatto soprattutto in questa ottica e con questa proprio anche con questo respiro ampio lo voglio dire molto sinceramente quindi sono molto grata Annalisa davvero torna a trovarci ti assorbiremo assorbiremo da te altre volte niente dei consigli di queste due fantastiche donne Albalisa e Angelina io mi devo sempre fidare questo questo sì su questo sottoscrivo anch'io questo ormai l'ho capito e Annalisa davvero per la disponibilità e il tempo che ci hai dedicato perché deve essere un lavoro Maurizio mi dice torna in Italia il problema è che cioè faccio la fave l'ho appena finito di dire io qui io qui ho sopravvissuto a robe pesanti quindi no sono una gratitudine estrema per la Svezia non credo non credo che potrei abbandonare questa cosa però è bello però è bello sentire il vostro affetto è una cosa meravigliosa meravigliosa e io dico sempre che il patrimonio più grande è questo della rete di relazioni il mio patrimonio più grande quello che mi salva la vita sempre e fatemi dire una cosa scontata noi donne lo sappiamo bene che nella pratica delle relazioni c'è gran parte della nostra attività politica nel modo in cui insomma mettiamo i nostri colpi nello spazio pubblico e politico però ci sono anche degli uomini molto fantastici che ci seguono come mobizio nei nostri laboratori e quindi io lo voglio ringraziare a nome di tutti davvero per tutti che ci vengono a trovare insomma in questo spazio che insomma per noi è molto importante un sacco di complimenti per te abbracci virtuali perché sei lontana più lontana di quanto possiamo esserle tutte e tutti purtroppo un abbraccione davvero ci speriamo di rivederci anche solo così molto presto volentieri ringrazio ancora e alla prossima ci vediamo martedì 5 novembre per chi c'è con Lorenzo Bernini il sessuale politico anche questo è un laboratorio da non perdere grazie mille ciao grazie grazie ciao buona vita ciao